Eventi di grande richiamo turistico, quali spettacoli, fiere, rassegne musicali, teatrali, cinematografiche, gastronomiche e ancora gare sportive e feste religiose. Queste, alcune delle tipologie di appuntamenti previsti in Sicilia tra il 2024 e il dicembre 2025, inserite nel calentario della manifestazione di grande richiamo turistico, adottato dalla regione siciliana per il bienio 2024-2025, con un decreto firmato dall'assessore al turismo Elvira Amata. Tra i grandi eventi in calendario è stata inserita la settimana santa di Caltanissetta.